Tolto il periodo estivo è un teatro che praticamente da ottobre inizia a vivere e ha una proposta continua, ci sono proprio mesi invernali dove non c'è un giorno di respiro e c'è sempre una proposta tutti i giorni. Su il sipario per la nuova stagione è giù il cappello di fronte al Teatro Manzoni di Monza, capace di resistere alla crisi, moltiplicare cicli e appuntamenti, saturare le sale offrendo contenuti per tutti i gusti e ogni età. Quest'anno in particolare si punta a fidelizzare un pubblico giovane in una fascia oraria nuova per le tradizioni teatrali cittadine, il sabato pomeriggio. Il sabato pomeriggio, che tra l'altro è un turno nuovo per il Teatro Manzoni, c'è la possibilità per gli studenti delle scuole medie superiori di usufruire di un abbonamento a 90 euro per gli otto spettacoli. Vi è poi la possibilità per tutti gli under 30 di poter venire al Teatro Manzoni scegliendo tre spettacoli a 27 euro, tre spettacoli all'interno di una rosa di sette spettacoli. Tra l'altro la cosa interessante è che questi abbonamenti sono tutti posizionati o in balconato o addirittura in platea. Iniziative queste che si aggiungono alla vendita online dei biglietti per ogni spettacolo, ad una forte interazione con i social network e alla proposta di spettacoli sempre molto graditi dal pubblico che ha segnato numeri da record. In fase di archiviazione, con l'apertura della liquidazione dei Conti in Rosso di Scena Aperta, la gestione dei teatri monzesi sta passando all'azienda speciale Scuola Borsa, con l'obiettivo di trasformarla in un polo a supporto del mondo teatrale monzese, a partire da quello amatoriale. Stiamo cercando di capire in che modo il nuovo soggetto che potrebbe subentrare, in questo caso la Scuola Civica Borsa, nella gestione dei teatri, possa anche costituire un'occasione importante per avviare sulla realtà del nostro territorio opportunità anche di carattere formativo che in qualche modo potrebbero essere legati al teatro stesso. Abbiamo un tessuto di compagnie teatrali, amatoriali che raggiungono anche livelli di una certa qualità, ecco, non cogliere questa opportunità che abbiamo in città credo che sarebbe davvero colpevole. Per questo, pur tra mille difficoltà, stiamo cercando di riflettere e ragionare per ancora una volta offrire qualcosa di diverso rispetto alla situazione attuale.